buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi mostreremo il cavo magnetico lighting e micro usb targato tiger procedendo all'apertura del pacco troveremo immediatamente il nostro cavo coi due supporti lighting e micro usb per il nostro dispositivo togliendo il cavo dalla sua confezione protettiva potremo notare come ci sono degli spinotti che andranno poi essere attaccati tramite delle calamite magnetiche ai nostri dispositivi andando a prendere il supporto per iphone e facendo una prova vedremo che si attacca automaticamente stesso discorso vale per l'attacco micro usb disponibile per i nostri dispositivi samsung il cavo sarà intrecciato per cui sarà particolarmente difficile romperlo e ingarbugliarlo su se stesso la lunghezza sarà di un metro e appunto grazie alla possibilità di poter cambiare connettore sarà disponibile e compatibile con quasi tutti i dispositivi in commercio il pacco sarà spedito direttamente dall'azienda produttrice per cui non sarà disponibile effettuare la spedizione tramite amazon prime ma vi lascio comunque il link in descrizione nel caso in cui vorreste provare la prova gratuita di 30 giorni da amazon prime e ovviamente il link per poter acquistare il prodotto